Il 39esimo congresso della società italiana dei trapianti che abbiamo appena completato all'Aquila è stato veramente un congresso importante ed un successo. Abbiamo avuto 427 trapiantatori italiani che hanno partecipato, abbiamo avuto relatori stranieri, abbiamo discusso di tematiche estremamente importanti, su come migliorare il numero dei trapianti che facciamo in Italia, su come migliorare la cultura della donazione e sulle nuove prospettive per il futuro, quali la rigenerazione degli organi e la possibilità di utilizzare le cellule staminali per costruire organi che possano essere utilizzati. Tutti sappiamo che la carenza di organi è ciò che limita il successo dei trapianti, quindi la donazione è un punto estremamente importante e uno degli scopi della nostra società per il prossimo anno sarà di migliorare la comunicazione, l'informazione sulla donazione perché solo in questo modo potremo aumentare la donazione di organi che è vitale per salvare tante persone.